Il tema è un altro dei temi che sono emersi dai confronti che abbiamo avuto nelle scorse settimane, quello della verifica dei gravi illeciti professionali, un tema sicuramente molto complesso perché in occasione delle verifiche dei requisiti per la partecipazione legale da parte degli operatori economici c'è sempre un'incertezza nell'andare a verificare questi gravi illeciti professionali, come faccio a verificare questi gravi illeciti professionali e come devo prendere la decisione, come devo decidere se escluderlo o non escluderlo, queste sono le incertezze che accompagnano questa verifica che comunque è un requisito di partecipazione quindi è importante come momento di valutazione da parte della pubblica amministrazione. quindi cerchiamo di valutare insieme, di ragionare insieme appunto su questa delicata fase e quindi attivo le slide come sempre per il contributo che vi ho preparato, dopo lasceremo lo spazio diciamo alla discussione. Allora innanzitutto la previsione è quella dell'articolo 80,5 lettera C del decreto legislativo 50 del 2016, quindi è chiaro che siamo nell'ambito della verifica dei requisiti di cui è l'articolo 80 e questa dei gravi illeciti professionali è prevista proprio dal comma 5 lettera C. In questo caso le stazioni appaltanti quindi è previsto escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Ecco già forse la previsione è fuoriera di dubbi perché innanzitutto c'è l'onore della prova che grava sulla stazione appaltante quindi già questa è la prima cosa importante, c'è la stazione appaltante che per escludere un operatore economico deve dimostrare e lo deve fare con mezzi adeguati anche che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Quindi parliamo di gravi illeciti professionali e naturalmente dobbiamo andare a esplorare il panorama di questi gravi illeciti professionali che naturalmente può essere molto molto ampio, tutti questi illeciti che incidono sulla capacità professionale dell'operatore economico e devono essere di una gravità tale da rendere dubbia l'integrità stessa dell'operatore economico o la sua affidabilità professionale. Ecco questa è diciamo la regola generale prevista dall'articolo 80,5 lettera C. In realtà però, attenzione, la lettera C dell'articolo 80 che elencava varie ipotesi di gravi illeciti professionali nella precedente versione diciamo dell'articolo 80 lettera C è stata oggetto di modifica da parte dell'articolo 5,1 del decreto legge 135 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge numero 12 del 2019 che ha sostituito l'originaria lettera C che prevedeva alcune ipotesi esemplificative con le attuali lettere C bis e C ter quindi praticamente c'è stata una ristrutturazione di questo requisito quindi la lettera C che appunto originariamente era soltanto lettera C adesso è stata scissa prima alla lettera C viene declinato il principio ma alla lettera alle lettere C bis C ter e poi si è aggiunta la lettera C quater abbiamo diciamo le i vari esempi che prima erano contenuti tutti nella lettera C quindi quando noi leggiamo lettera C C bis C ter e C quater fanno tutte diciamo sono tutte ipotesi che si riferiscono appunto all'unico requisito del possesso di non aver commesso gravi illeciti professionali e questo c'è stata questa piccola ristrutturazione appunto di questo requisito quindi dopo l'inserimento delle lettere C bis e C ter è stata inserita la lettera C quater dall'articolo 1,20 lettera O del numero 4 del decreto legge numero 32 del 2019 convertito nella legge 55 del 2019 e parliamo dello sblocca cantieri quindi praticamente la lettera C quater che individua un ulteriore esempio di grave illeciti professionale è stata inserita successivamente con lo sblocca cantieri vediamo quali sono questi esempi di grave illeciti professionali quindi la lettera C bis prevede come eh grave illeciti professionali l'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito anche per negligenza informazione fa informazioni false o furvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione la selezione o la giudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione attenzione perché qui in queste ipotesi sono racchiuse diciamo quelle eh i casi più spinosi no perché eh a parte diciamo i casi un po' più clamorosi no quando l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e vedremo poi che cosa significa diciamo questo ma attenzione quando parliamo di informazioni che abbia reso informazioni false o furvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione la selezione la giudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ecco quindi andiamo a vedere eh questi casi che naturalmente investono quello che viene dichiarato diciamo dall'operatore economico quando partecipa alla procedura di selezione abbiamo poi il caso previsto i casi anzi previsti dalla lettera CTR cioè quando l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili quindi questi sono casi un po' più facili perché siamo proprio sui gravi leggi professionali che addirittura hanno portato alla ehm risoluzione del contratto ovvero a una sanzione comparabile su tali circostanze della stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa poi vedremo anche la questione dei tempi il C4 diciamo l'ultima disposizione eh che è stata inserita dallo sblocca cantieri prevede che eh diciamo si verifichi il grave illecito professionale anche quando l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori quindi anche l'inatempimento nei confronti dei subappaltatori è riconosciuto come grave illecito professionale ma in questo caso deve essere stato riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato quindi eh ci deve essere stata appunto una una sentenza passata in giudicato quindi definitiva ecco questi sono eh i casi esemplificativi di gravi illeciti professionali ma attenzione perché l'elencazione non è esaustiva poi andremo a vedere in concreto diciamo come eh soprattutto l'ANAC con le linee guida numero sei ha declinato diciamo questi gravi illeciti professionali ma attenzione perché il principio base è che questi sono esempi quindi la la categoria dei gravi illeciti professionali non è una categoria chiusa infatti se vi ricordate l'abbiamo visto anche l'altra volta quando abbiamo parlato della tassatività delle cause esclusione ecco questa è un'eccezione alla eh la giustizia giustamente ha definito queste come eccezione al principio di tassatività e non c'è tassatività cioè sono la casistica e deve essere riempita dall'interpretazione della pubblica amministrazione per cui non è possibile individuare aprioristicamente tutti i casi di gravi illeciti professionali è la stazione appaltante che deve fare una sua valutazione discrezionale sui casi di gravi illeciti professionali secondo le indicazioni che ha dato il legislatore e poi secondo anche le quelle che ha dato il eh l'ANAC con le linee guida numero sei ma eh dobbiamo però innanzitutto eh sapere che eh quelle quei casi che pure sono previsti da queste lettere cbis ctrcquater non esauriscono la categoria dei gravi illeciti professionali che è una categoria aperta quindi è la eh l'amministrazione che valuta diciamo la eh la possibile esistenza in base ovviamente a condotte pregresse di della commissione di un grave illecito professionale che non consente la partecipazione alla procedura di gara. Ecco le linee guida ANAC numero sei eh sono state predisposte ehm per recare indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di quella articolo ottanta comma cinque lettera c del codice ossia i gravi illeciti professionali quindi l'ANAC predisposto delle linee guida apposite che danno delle indicazioni importanti. Le cause di esclusione attenzione cioè noi come facciamo cioè la la prima domanda è ma noi ma come le individuiamo cause diciamo che che riguardano il passato e che non sono chiaramente solo in minima parte possono evincersi dal casellario giudiziario perché non mica eh riguardano soltanto reati anzi minima parte riguardano la commissione di reati quindi la maggior parte si tratta di eh cause civili no per per la risoluzione del contratto o addirittura eh provvedimenti amministrativi quando eh per esempio c'è l'applicazione di una penale per cui è veramente difficile quindi il primo ehm mezzo per acquisire informazioni eh dal sulla commissione passata di gravi leggi professionali è proprio l'autocertificazione no che gli operatori economici eh rendono mediante il documento di gara unico europeo ecco lì c'è uno spazio apposito proprio sulla regione appunto dei gravi leggi professionali e quello spazio deve essere riempito adeguatamente poi lo vedremo dagli operatori economici quindi la prima base informativa che è importantissima perché poi vedremo anche che cosa succede quando l'operatore economico diciamo omette diciamo queste queste dichiarazioni eh che ripeto sono importantissime e quando diciamo la pubblica amministrazione comunque viene a conoscenza di fatti passati non autocertificati non dichiarati dall'operatore economico quando partecipa alla gara di appalto quindi è molto importante che eh questa dichiarazione avvenga da parte dell'operatore economico e avvenga in maniera completa mediante ehm diciamo la redazione proprio dello spazio apposito previsto nel documento di gara unico europeo e eh diciamo la mh produzione di tutti gli elementi utili alla pubblica amministrazione per qualificare quei gravi illeciti professionali che quei fatti diciamo che sono stati commessi in precedenza come eh gravi illeciti professionali oppure come eh fatti che possono essere superabili fino all'entrata in vigore della banca dati di cui è l'articolo 81 del codice che eh diciamo eh si era andata a vedere è l'araba fenice perché questo ci dovrebbe consentire questa banca dati eh prevista presso il ministero infrastrutture e trasporti andiamo lì e troviamo tutta la vita diciamo dell'operatore economico ma purtroppo diciamo questa banca dati eh prevista ma ancora non non c'è traccia quindi quindi prima dell'entrata in via fino all'entrata in vigore della banca dati chissà quando ci sarà la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80,5 lettera C è condotta mediante accesso al casellare informatico ANAC che diventa diciamo veramente forse il baluardo per andare a verificare i gravi illeciti professionali ma voi sapete che solo in minima parte questo è quello che è stato commesso dagli operatori economici va a a a a finire diciamo nel casellare informatico ANAC perché eh a volte non c'è eh assolvimento dell'obbligo informativo da parte delle stazioni appaltanti e altre volte invece poi eh ci sono delle delle valutazioni eh che diciamo non portano all'iscrizione nel casellare informatico ANAC quindi eh diciamo è un passaggio che non esaurisce diciamo la vasta eh gamma di eh casi eh che possono racchiudere il grave illecito professionale ma è e comunque forse l'atemi è il più importante la verifica di questo casellare informatico dell'anac è chiaro che se c'è una una indicazione e lì è chiaro che eh comunque eh c'è un c'è già un indizio molto forte sulla commissione del grave illecito professionale e poi mediante la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi quindi carichi pendenti per i reati però specifici soltanto per questi relativi agli appalti di quell'articolo 353, 356b, 354, 355 e 356 del codice penale quindi eh turbativa eh d'asta insomma frode negli appalti insomma tutti i reati specifici che il codice penale prevede nel campo degli appalti quindi eh non solo chiaramente quando eh c'è la eh diciamo la una sentenza definitiva c'è l'esclusione automatica ma quando c'è una ehm sentenza non definitiva quindi ho oppure un procedimento in corso e allora c'è una valutazione da parte della stazione appaltante su eh questo che viene considerato appunto un grave illecito professionale mediante acquisizione appunto del certificato dei carichi pendenti quindi i mezzi di prova oggi fino a quando entrerà in vigore questa eh questa banca dati presso il MIT che ci darà tutte le risposte e verifica del casellare informatico dell'ANAC e acquisizione dei carichi pendenti il certificato dei carichi pendenti per la verifica eh per verificare se l'operatore economico ha commesso diciamo uno dei o o nei suoi confronti e è in corso un procedimento riguardante eh la contestazione di uno dei reati specifici in tema di appalti previsti dal codice penale. Le stazioni appaltanti poi sono tenute a comunicare all'ANAC ai fini di iscrizione del casellare i provvedimenti dalle stesse adottati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti ma eh ho già detto che non sempre diciamo questo avviene eh c'è questa eh puntualità nel nel comunicare all'ANAC questi provvedimenti da parte delle stazioni appaltanti. L'esclusione dalla gara deve essere comunque disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato. Quindi non è che eh l'amministrazione decide e non consente diciamo l'esercizio del diritto di difesa. Occorre un contraddittorio con l'operatore economico interessato eh circa appunto la il grave illecito professionale e previa anche valutazione delle misure di self-cleaning adottate. Quindi attenzione perché questo anche questo è molto importante peraltro diciamo io dovrei trovare già tutto appunto nel nel DGU eh perché lì c'è anche lo spazio no? Sull'inserimento delle misure di self-cleaning eh adottate e quindi la valutazione dovrei avere già tutti gli elementi completi per una valutazione appunto del del grave illecito professionale. Allora eh al paragrafo 2211 le linee guida dell'ANAC indicano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto. Quindi quello che è l'ipotesi prevista dalla lettera CTR eh eh articolo ottanta comma cinque lettera CTR eh le significative carenze nell'esecuzione di un precedente eh contratto. Quindi è il caso proprio eh del della delle carenze nell'esecuzione di un contratto che naturalmente hanno comportato la risoluzione anticipata o la condanna al risarcimento del danno per diciamo una carenza professionale. Quindi sono rappresentati da comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti anche ovviamente stipulati con altre amministrazioni che abbiano comportato eh l'uno o l'altro o o anche tutte e due la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escursione delle garanzie ai sensi degli articoli 103 e 104 del codice degli appalti. Quindi eh queste eh carenze eh naturalmente sono attestate dal fatto che o c'è stata una risoluzione del contratto e quindi le carenze erano gravi chiaramente oppure c'è stata una condanna al risarcimento del danno perché magari era terminata diciamo l'esecuzione eh dell'appalto eh oppure anche l'applicazione di penali o l'escursione delle garanzie in questo caso dovrebbe essere la garanzia eh definitiva eh insomma per il l'esecuzione dell'appalto per cui queste sono le eh indicazioni che dà eh l'ANAC ma in particolare eh per entrare poi nello specifico dei casi assumono rilevanza sempre a titolo esemplificativo perché abbiamo detto che la categoria è aperta diciamo all'interpretazione di altri casi da parte della stazione appaltante a titolo esemplificativo i casi indicati all'ANAC sono l'inatempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto l'adozione di comportamenti scorretti il ritardo nell'atempimento l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione l'avere indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa questo è un comportamento chiaramente fraudolento questo oppure nei contratti misti di progettazione ed esecuzione quindi cosiddetto appalto integrato qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o una variante esenzia dell'articolo 106,2 del codice poi nei appalti invece di progettazione o concorsi di progettazione qualunque omissione errore di progettazione imputabile chiaramente al progettista parliamo di appalti di progettazione concorsi di progettazione che ha determinato nel successivo appalti la stessa cosa una modifica o una variante ai sensi dell'articolo 106 del codice ecco questi sono i casi indicati dalle linee guida ANAC numero 6 come significative carenze nella esecuzione nei casi più gravi le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui è l'articolo 355 quindi in adempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 frode nelle pubbliche forniture del codice penale e questo diciamo è più facile andarlo a verificare attraverso il casellare giudiziario o il certificato dei carichi pendenti pertanto la stazione appaltante deve valutare ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengono una condanna a risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'articolo 80,5 lettera c e queste sono le indicazioni eh del dell'ANAC ovviamente è chiaro quando si tratta di di condanne definitive per questi reati specifici in tema di appalti e allora scatta direttamente la causa dell'esclusione automatica esenzio dell'articolo 80,1 lettera del codice degli appalti quando invece si tratta di di carichi pendenti di procedimenti in corso allora c'è una valutazione da parte della stazione appaltante circa la gravità dei fatti valutazione che poi come vedevo deve essere spinta proprio eh nella nella valutazione anche degli atti istruttori cioè per capire effettivamente in che cosa diciamo che cosa viene contestato no e e quali sono anche gli elementi ovviamente quindi molto spesso vi assicuro non è per niente facile che chiaramente voi chiedete gli atti ma manco rispondono alla alla procura o alle forze dell'ordine eh la stazione appaltante ecco veniamo all'altro caso eh dei gravi illeciti professionali quindi non alle carenze eh nelle esecuzioni ma i gravi illeciti professionali la stazione appaltante deve valutare ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente quindi eh in ossequio alla lettera cbis dell'attivo ottanta comma cinque i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione a giudicatrice o di altri partecipanti posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente quindi queste eh sono le ipotesi che andiamo a vedere eh individuate dall'ANAC previste eh diciamo dal dalla lettera cbis dell'articolo ottanta comma cinque e quindi anche qui l'ANAC a titolo esemplificativo eh individua alcune ipotesi eh quindi eh quanto all'ipotesi legale del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante che significa quale quali sono diciamo questi casi gli atti diretti a influenzare le decisioni della stazione appaltante quindi quando c'è un tentativo di influenzare le decisioni della stazione appaltante che può riguardare la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione l'adozione dei provvedimenti di esclusione all'attribuzione di punteggi quindi c'è un tentativo di falsare ovviamente in qualche modo l'iter valutativo da parte della stazione appaltante attraverso la la eh diciamo un'alterazione eh della della procedura di gara eh oppure attraverso e lo vedremo eh dopo attraverso eh la eh fornitura di informazioni false false o furvianti o o carenti diciamo e poi vedremo anche queste distinzioni quanto all'ipotesi del tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini proprio vantaggio i comportamenti sono eh quelle eh volti i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine al nominativo eh degli altri concorrenti al contenuto delle offerte presentate e poi c'è anche l'altra diciamo ancora più grave se volete perché può sfociare ovviamente in un reato eh che è quella di mettersi d'accordo con gli altri operatori che partecipano alla gara per per stabilire diciamo quale deve essere la percentuale di ribasso eh per le offerte quindi sono tutti casi che l'ANAC eh va a a dettagliare ma che ripeto non esauriscono il complesso dei gravi leggi professionali perché quello spetta alla stazione appaltante. Quanto alle ipotesi legali del fornire anche per negligenza informazioni false o forvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione attenzione la selezione la giudicazione e dell'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione rilevano i comportamenti posti in essere dal concorrente condolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del contegno. C'è il caso che vi avevo citato prima no? Quando c'è una eh un'omessa eh appunto dichiarazione no? Sui per esempio anche sui sui gravi leggi professionali no? Eh commessi in precedenza e quindi eh diciamo c'è eh una valutazione che quindi eh la stazione appaltante deve fare su questo comportamento omissivo o reticente diciamo del dell'operatore economico. Quindi rientrano nella fattispecie sempre a titolo esemplificativo la presentazione di informazioni furvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione l'omissione di informazioni in ordine alle carenze sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore. Quindi si tratta di altri casi che le linee guida dell'ANAC vanno a indicare ma ripeto sempre a titolo esemplificativo. Quindi innanzitutto noi partiamo dal presupposto che l'elencazione dei gravi leciti professionali non è tipizzata. Quindi questo è rimarcato anche dalla giurisprudenza e vi ho fatto una raccolta proprio di giurisprudenza recente sul punto. Vedete in materia di gare pubbliche la nozione di grave leciti professionale ex articolo 80,5 lettera C del decreto legislativo 50 del 2016 ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante ricomprende ogni condotta collegata all'esercizio e l'attività professionale contraria a un dovere posto da una norma giuridica di natura civile penale o amministrativa. Di conseguenza l'elencazione dei gravi leciti professionali rilevanti contenuta nella lettera C del comma 5 deve riguardarsi quale meramente esemplificativa nel senso che pur agevolando gli obblighi dimostrativi facenti carico alla stazione appaltante qualora ritenga di escludere l'operatore economico per dei fatti specie di pinzati non ne limita tuttavia la riconosciuta discrezionalità nella valutazione di altre situazioni che evidenzino la contrarietà a un obbligo giuridico di carattere civile penale e amministrativo tale eh ritenute tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità del concorrente questa è una sentenza dell'ottobre del duemilaventi del TAR Lombardia ma la giurisprudenza su questo è pacifico non non è un elenco tassativo quindi c'è massima discrezionalità da parte della pubblica amministrazione nella valutazione dei gravi illeciti professionali. Ecco veniamo al tempo ma eh questo ehm vi ho citato anche una una sentenza recentissima proprio del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia proprio di di qualche settimana fa eh eh del diciannove aprile eh quindi il il innanzitutto qual è il limite di tempo ma io devo andare a a ritroso ma ma per vedere se eh l'operatore economico ha commesso gravi leggi professionali ma anche quelli dieci anni fa di vent'anni fa no il comma dieci bis e questo è molto importante perché non è diciamo chiarissimo questo il comma dieci bis dell'articolo TAR chiarisce che la durata dell'esclusione è pari a tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero in caso di contestazione in giudizio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso e questo è un caso molto frequente ed è il caso più delicato cioè quando c'è eh diciamo una eh contestazione diciamo in in corso e eh naturalmente non c'è un giudizio un giudizio definito ovviamente questo riguarderà i casi i casi più gravi ma eh chiaro che quando c'è un un provvedimento amministrativo che ha fissato diciamo questa eh eh che è in contestazione eh bene eh diciamo la la diciamo questo questo termine questo limite eh comunque va va verificato attentamente perché si rischia poi di eh la stessa cosa poi vedremo riguarda anche i casi in cui magari c'è un rinvio a giudizio no? C'è un carico pendente eh a carico dell'operatore economico perché eh da un lato sì c'è la tutela della pubblica amministrazione nel nel contrattare soltanto con persone che dimostrino massima integrità e massima affidabilità ma dall'altro lato c'è il rischio che un operatore economico sia tagliato fuori da una eh da una fetta importante di mercato da da commesse pubbliche e quindi eh cioè mina eh potenzialmente la stessa esistenza di quell'operatore economico quindi eh questi questi sono i casi più complicati i casi più difficili da eh valutare. Eh il limite temporale del triennio eh perché questo diciamo non è scontato quindi molto importante questa sentenza recente del triennio quale limite massimo temporale di rilevanza della circostanza ai fini dell'esclusione non può che trovare applicazione anche all'ipotesi dei gravi leciti professionali perché il comma dieci bis dell'articolo ottanta parla in generale ma non non è agganciato eh proprio specificamente a a ipotesi non potendosi logicamente consentire un trattamento giuridico più favorevole alle situazioni nelle quali intervengono condanne ostative dove pure l'articolo dieci eh scusate il comma dieci oltre che il dieci bis prevedono dei limiti temporali e alla eh in caso di condanna che sono dieci anni sette anni cinque anni o tre anni e quindi eh per le quali è pacifica appunto la limitazione del periodo di inibizione e quindi la rilevanza temporale della condanna ex articolo ottanta commi dieci e dieci bis primo periodo del codice rispetto a situazioni assoggettabili ad una a una votazione discrezionale della situazione appaltante quali quelle eh rientranti nei gravi leciti professionali conclusioni incompatibili sia con la eh con la lettera che con la razio della richiamata disciplina comunitaria appunto questa è la sentenza del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia molto molto importante quindi che cosa ci dice sarebbe assurdo cioè il legislatore ha previsto dei limiti temporali eh per eh le condanne no per l'applicabilità proprio delle dell'esclusione quel come gravi leciti professionali della valutazione della della gravità in caso di condanna e non lo non lo fa per per gli altri tipi di eh di illeciti che sono diciamo civili o amministrativi no questo non è possibile per cui il limite è quello previsto dal comma dieci bis dell'articolo ottanta il limite generale per andare a ritroso a eh valutare eh i ehm gravi leciti professionali appunto è tre anni per quanto riguarda la motivazione della esclusione allora vedete questa sentenza del Tarumbria ci dà questa indicazione giusta nelle gare pubbliche in ordine al requisito scusa un attimo se ti interrompo Rino eh vedo il dottor Livolzi che dice l'ultimo rigo della slide non si legge perché coperta dal bordo blu forse la slide precedente intendeva sì eh sì la 9 e la 10 se non mi ricordo male era la 9 e la 10 anche l'altro c'era la sentenza Tar in Milano sembrava ma non si capisce il numero sì in effetti ho notato notato anch'io eh non so perché eh perché si però cercheremo di di aggiustare diciamo questo inconveniente di carattere tecnico io ovviamente eh quando le preparo eh sto attento appunto a che si legga si legga tutto eh poi non so eh probabilmente la trasformazione in pdf che che fa questo impostazione comunque si corregge non è un problema però è un fatto tecnico che sarà corretto assolutamente ok scusate l'interruzione quindi dicevamo eh questa sentenza del Tar Umbria ci dice che nelle gare pubbliche in ordine al requisito relativo all'insussistenza di gravi illeggi professionali o di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro la stazione appaltante che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di si fatto convincimento potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per fatta concludenza ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa quindi quando io ritengo io stazione appaltante ritengo di superare che quello non è un grave illeggio professionale cioè quel reato commesso quella situazione io non devo motivare cioè basta che lo ammetta ammetta il concorrente alla gara mentre la valutazione di gravità semmai che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale quindi la motivazione ovviamente di esclusione quindi la stazione appaltante deve quindi motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni se su di esse non vi è in gara contestazione questa è la sentenza dell'ottobre del 2020 del tar Umbria andiamo avanti sempre nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica la normativa di cui è l'articolo 80,5 lettera c del decreto legislativo 50 del 2016 esclude ogni automatismo relativo all'esclusione dalla gara di un'impresa concorrente ponendo in capo alla stazione appaltante l'onere di valutare la rilevanza dei gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente medese si tratta di due sentenze diciamo che risalgono appunto un paio di mesi fa dell'una del tar mar che l'altra del tar lax quindi quello che è importante è la motivazione della esclusione nel caso in cui la stazione appaltante avviso un'ipotesi di grave illecito professionale questo caso ne deve dar conto ovviamente in una motivazione che deve essere adeguata e analitica sempre a proposito delle cause di esclusione e quindi qui il problema tecnico diciamo è effettivamente pure io non leggo non leggo diciamo questa ma comunque vediamo un attimo di parlarne poi ripeto lo correggerò allora nelle gare di appalto la valutazione sulla giusto per inciso e poi vedo che perché io diciamo quando preparo queste slide sottolineo anzi no scusate non sottolineo evidenzio alcuni passaggi che ritengo importanti diciamo dell'ambito della slide invece qui non quindi evidentemente c'è dobbiamo recuperare anche anche quel passaggio vabbè era giusto diciamo come una comunicazione di servizio quindi dicevamo sempre a proposito della motivazione nelle gare di appalto la valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali desumibili da mezzi adeguati compete all'amministrazione abbiamo detto l'onore della prova incombe sull'amministrazione la quale è chiamata in caso di illecito comunicativo ad apprezzare senz'altro quella condotta dichiarativa in termini di omissione reticenza o mendacio del concorrente ma nel farciò non potrà esimersi dal soppesare nel merito i singoli pregressi episodi dei quali l'operatore si è reso protagonista e da essi dedurre la possibilità di riporre fiducia nell'operatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto di appalto nel caso di provvedimenti di esclusione che si fondino su fatti oggetto di procedimento penale gli elementi idoni a sorreggere il giudizio di inaffidabilità dell'impresa possono anche essere desunti dall'amministrazione da fatti penalmente rilevanti oggetto di appositi procedimenti ma a tal fine è necessario sempre che l'amministrazione individui con precisione quali siano le condotte esecutive rilevanti che hanno integrato gli estremi del grave errore tali da causare la interruzione del rapporto fiduciario. Questa è una sentenza del Tar Sardegna che quindi rimarca l'esigenza di fornire da parte della pubblica amministrazione una motivazione adeguata della esclusione nel caso in cui ravvisi gli estremi del grave illecito professionale che rende impossibile la instaurazione di un rapporto con quell'operatore economico. Quindi c'è una motivazione sempre molto puntuale. Quindi però attenzione perché ci sono dei motivi, distingo dove la motivazione diciamo è come dire meno forte in alcuni casi ecco e questo diciamo la giurisprudenza lo ha rimarcato ma lo vediamo ecco noi dobbiamo distinguere tra dichiarazione dichiarazione omessa, dichiarazione reticente o dichiarazione falsa. Vi ho detto sono le ipotesi diciamo dove c'è un illecito dichiarativo, un illecito comunicativo come dice la giurisprudenza. Io partecipo alla gara ma diciamo nel partecipare siccome ho diciamo qualche scheletro nell'armadio e allora do un'informazione che diciamo è un po' inquinata. Ecco ma in che senso un po' inquinata? Ecco vediamo di qualificare ecco questo inquinamento dell'informazione. Quindi la dichiarazione resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare gravi illeciti professionali può essere omessa, reticente o completamente falsa. Si configura l'omessa dichiarazione quando l'operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale. E attenzione perché è un caso che si verifica diciamo molto molto di frequente perché naturalmente anche se noi abbiamo ristretto l'ambito temporale a tre anni prima è comunque anche per lo stesso operatore economico diciamo siccome sono tutte ipotesi non tipizzate e allora diventa non facile per lo stesso operatore economico magari andare a qualificare chiedo scusa e chiederei la cortesia magari di spegnere i microfoni, disattivare i microfoni altrimenti abbiamo dei rumori. Ecco grazie. Quindi innanzitutto abbiamo il caso dell'omessa dichiarazione ma diciamo omessa dichiarazione può anche essere stata fatta in buona fede dall'operatore economico che magari ha difficoltà diciamo nel qualificare il grave illecito professionale. Mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell'ottica dell'affidabilità del concorrente. Infine è configurabile la falsa dichiarazione se l'operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero. Quindi ovviamente è chiaro che questa è l'ipotesi più grave, quella di falsa dichiarazione. Cioè io ti do una dichiarazione che è falsa. Qui invece negli altri casi ometto diciamo l'indicazione di una precedente commissione di un grave illecito professionale, non scrivo niente. Qui addirittura do invece un'interpretazione che è distorta, che appunto è ad Usum Delfini e quindi è fondata proprio sull'interesse personale a partecipare alla gara. Meno grave diciamo si configura quella dichiarazione reticente dove ti do l'informazione ma non te la do magari completa ma diciamo è integrabile ovviamente anche in sede di soccorso istruttore. La distinzione tra i tre fatti specie non risiede dunque nell'oggetto della dichiarazione che ovviamente è sempre lo stesso quindi che riguarda le le pregresse vicende professionali dell'operatorio Econo quanto piuttosto nella condotta di quest'ultimo e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico. Solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l'automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell'inaffidabilità e della non integrità dell'operatore economico mentre ogni altra condotta omissiva o reticente che sia comporta l'esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavoribile sull'affidabilità dello stesso. Quindi vedete dichiarazione omessa, reticente o falsa solo la falsa dichiarazione può comportare una esclusione automatica dalla procedura di gara quindi non è che non serve la motivazione ci vuole sempre diciamo la motivazione sulla esclusione ma sarà ovviamente una motivazione meno forte e grave il fatto che l'operatore economico abbia prodotto una dichiarazione falsa mentre meno grave è il caso in cui l'operatore economico abbia prodotto una dichiarazione sempre stiamo parlando di gravi leggi professionali una un'omessa dichiarazione o una dichiarazione reticente diciamo non non completa diciamo da questo punto di vista quindi che impone diciamo una valutazione accurata e una motivazione adeguata da parte della stazione appaltante. Sempre diciamo su questo tema importante dell'omessa dichiarazione vedete in materia queste sentenze recenti del consiglio di stato quindi anche prima l'indirizzo era appunto la questa indirizzo del consiglio di stato ma anche di decente lo possiamo eh ne possiamo trovare conferma vedete in materia di gare pubbliche l'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali o la dichiarazione reticente su tali fatti non è mai nell'articolo ottanta comma cinque lettera c autonoma casa a causa di esclusione né lo è ai sensi della lettera F bis quindi lettera successiva la quale condiziona con l'esclusione eh alla dichiarazione non veritiera ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà infatti questa è una causa precisa diciamo di esclusione che riguarda ovviamente eh diciamo la eh la 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 gara in corso non non gare pregresse non alla dichiarazione reticente o alla omissione della dichiarazione ma alla dichiarazione non veritiera quindi eh diciamo da un'interpretazione questa sentenza del consiglio di stato aderente a quella eh precedente quindi assegna un grado di particolare gravità eh eh soltanto diciamo all'ipotesi di falsa dichiarazione quindi si applica alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false senza alcun margine di opinabilità questa sentenza recente del gennaio duemilaventuno del consiglio di stato quindi distinzione tra i vari casi quindi quando si vanno a valutare i casi di eh omessa dichiarazione o di dichiarazione appunto reticente o di dichiarazione falsa ecco nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa o e quindi questo abbia causato esclusione ovviamente oppure nel caso in cui eh la dichiarazione sia stata incompleta beh sono due due casi che comunque richiedono una motivazione viceversa nel caso di dichiarazione falsa e la motivazione è già in sé nella gravità appunto della della commissione appunto del falso da parte dell'operatore economico andiamo avanti eh sempre a proposito della valutazione dell'omessa dichiarazione eh nelle gare pubbliche la valutazione sulla sussistenza di gravi leciti professionali desumibili dai mezzi adeguati compete all'amministrazione la quale è chiamata all'uopo in caso di lecito comunicativo ad apprezzare senz'altro quella condotta dichiarativa in termini di omissione reticenze o menta o mentaio o mentaio del concorrente ma nel farciò non esimersi dal eh soppesare nel merito i singoli pregressi episodi dei quali l'operatore si è reso protagonista e da essi dedurre la possibilità di riporre fiducia nell'operatore economico dove si renda a giudicatario del contratto di appalto il canone alla cui strego la stazione appaltante deve esprimere il proprio motivato giudizio sulla missione del concorrente è quello della integrità o affidabilità dell'operatore quindi alla fine questo è il giudizio che deve effettuare la stazione appaltante per questo non solo i profili della condotta dichiarativa endoprocedurale in sé ma anche quelli inerenti al fatto non adeguatamente dichiarato rientrano nell'oggetto dell'apprezzamento di competenza dell'amministrazione quindi vedete la giurisprudenza su questo è abbastanza compatta diciamo nel caso di dichiarazioni false abbiamo qui diciamo una una sentenza che ci fa un po' riflettere invece vedete in caso di dichiarazioni false in sede di offerta in regale pubbliche non si ha l'automatismo espulsivo sembra diciamo un po' più garantista diciamo questa sentenza sempre e in ogni caso fornire anche per negligenza informazioni false o forvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione la selezione o la giudicazione quanto l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione sono considerate alla lettera c quali gravi i leciti professionali in grado di incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico è pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante quindi questa sentenza che è del dicembre 2020 quindi anche anche sta recente di un'altra sezione rispetto alle altre in effetti io non apparentemente diciamo è un po' è più garantista e quindi richiede anche qui ma le altre se andate a vedere bene non è che dicono che non ci vuole la motivazione semplicemente lì viene rimarcato il fatto della rilevanza maggiore della falsa dichiarazione ai fini dell'esclusione quindi non c'è nemmeno lì è previsto l'automatismo comunque si deve motivare in base al falso ma con è chiaro che viene rimarcato il fatto che il falso è di per sé diciamo una una un fatto grave che la cui sola descrizione in effetti è sufficiente per motivare appunto l'esclusione dell'operatore economico cosa che invece non abbiamo nei casi di dichiarazione reticente o dichiarazione omessa dove c'è bisogno di un onere motivazionale cioè un po' più più forte in tema di gare pubbliche e in particolare con riferimento appunto ai casi disciplinati dall'articolo 80 lettera c del decreto operativo 52 e 6 anche gli illeciti anti concorrenziali possono costituire eh gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dal concorrente della gara quindi pensate al ai provvedimenti dell'autorità eh garante della concorrenza del mercato pertanto il concorrente che si è in corso una sanzione per illecito anti concorrenziale tenuto a dichiararlo nella procedura di gara quindi perciò rientra nei gravi leciti professionali al fine di consentire alla stazione appaltante di operare le valutazioni di competenza in ordine alla sua integrità e affidabilità questa è una sentenza del consiglio di stato del dicembre del 2020 quindi anche eh rientrano sempre nella valutazione ovviamente anche le sanzioni dell'autorità garante della concorrenza del mercato in ultimo vediamo alle misure di self cleaning e qui però vedo che effettivamente eh siamo siamo molto sotto diciamo quindi si si legge si legge poco vabbè quindi ma eh eh ripeto aggiusteremo diciamo questo inconveniente ai sensi dell'articolo 80,7 del codice l'operatore economico è ammesso a provare di avere adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione quindi qualora ci sia eh la la stazione appaltante individui un caso di gravi lecce professionale che merita eh da parte dell'operatore economico l'esclusione dalla gara di appalto eh però eh nella valutazione e nella conseguente motivazione la stazione appaltante non può che passare attraverso un contraddittorio abbiamo visto con l'operatore economico nel contraddittorio importantissima è la valutazione delle misure cause di self-cleaning no che sono previste peraltro in generale anche eh a proposito appunto della della delle altre cause di esclusione per cui eh è importante effettuare questa valutazione da parte eh della della stazione appaltante scusate da da parte della stazione appaltante l'adozione delle misure di self-cleaning attenzione questo è previsto eh dalle linee guida dell'ANAC deve essere intervenuta entro il termine fissato per per la presentazione delle offerte nel documento di gara unico europeo l'operatore economico deve indicare le specifiche misure di self-cleaning adottate quindi nella dichiarazione già deve indicare non solo i gravidi illeciti professionali commessi ma anche le misure specifiche adottate possono essere considerati idonei a eh evitare eh l'esclusione oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dalle leggi quindi per esempio aver pagato la sanzione amministrativa aver pagato l'ammenda aver pagato la multa eccetera poi come si può dimostrare diciamo che di aver adottato tutte le cauteli per esempio avere eh adottato provvedimenti che garantiscono adeguata capacità professionale dei dipendenti anche con attività formative idonea a impedire che diciamo la commissione in futuro di quei gravi illeciti eh commessi in passato oppure misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo o anche la rinnovazione agli organi societari quando ovviamente eh parliamo di eh di di commissione eh diciamo di reati magari no da parte eh di dell'amministratore delegato o del rappresentante legale eccetera oppure modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificate sia che sono stati contestati e che hanno eh determinato appunto l'esclusione eh dell'operatore economico dalla gara. Ecco questi sono eh casi eh ipotesi no di di adozione di di misure di self-cleaning anche in questo caso ovviamente la casistica prevista dalle linee guidate ANAC numero sei non è esaustiva e eh diciamo eh del pari alla individuazione gravi leggi professionali eh spetta la stazione appaltante poi valutare l'efficacia eh di queste misure di self-clean cleaning rispetto al grave leggi professionale contestato quello che è certo però è che la motivazione deve passare anche attraverso la valutazione delle misure di self-cleaning adottate.